Professione portiere, benvenuto a Pescara. Ti chiedo subito con quali obiettivi, Manuel. Grazie, con gli obiettivi personali di fare sempre meglio e crescere. Quelli di squadra sappiamo tutti che Pescara è una società molto ambizione e so che faremo sempre meglio. Non avevi un bel ricordo di Pescara personalmente? Due partite, quanti gol subiti? Otto? Tre all'andata, sì, otto. Quindi sono venuto per recuperare. Che ricordi avevi di Pescara, a parte quelle goleade in due partite? No, sicuramente giocare all'Adriatico. Era uno stadio che comunque vedevo in tv quando ero un po' più piccolino. C'è un grande stadio e anche la storia si sa del Pescara. Con chiunque abbia parlato, tutti mi hanno detto che si sono trovati bene. Un ottimo primo impatto, diciamo. Per te sicuramente non sarà facile, ma questo lo sai perché hai davanti un portiere come Plizzari. Sei un po' dispiaciuto perché dovevi giocare poi all'ultimo Plizzari a recuperato contro la Juve? Vabbè, diciamo che il calcio è così, si vive giorno dopo giorno, quindi ho imparato a non crearmi aspettative, lavorare forte giorno dopo giorno. Prestito secco dal Potenza con la speranza in futuro di poter essere un punto fermo del Pescara? Sicuramente, perché la storia, come detto prima, del Pescara la sappiamo tutto, anche l'ambizione della società e poi anche il primo impatto che ho avuto in questi primi giorni è stato molto positivo, quindi ne sarei contento. Sei giovanissimo, hai 21 anni, sei cresciuto con quale mito dei portieri? Ma diciamo, vabbè, a parte Buffon che quello è scontato per uno che fa questo ruolo, però vedendo da vicino magari i vari Meret, Scufet, Vicario e Perisan con il loro mito che era il percorso che diciamo abbiamo fatto per lo più tutti quelli cresciuti all'Udinese. Prima di guardare a Perugia, al posticipo, ti chiedo una cosa sola di quegli otto gol subiti l'anno scorso, una cosa che ti ha impressionato di quel Pescara, sia all'andata con Colombo sia al ritorno, sempre con Colombo? Sicuramente la qualità dei singoli e anche l'intensità che c'era in quella squadra, c'è l'unione proprio, si vedeva che era una squadra unita e forte. Perugia, lunedì, che classica partita dà vietato fallire per l'obiettivo terzo posto? Sicuramente uno scontro diretto, quindi come tutti gli scontri diretti si deve scendere in campo con la giusta fame e voglia di vincere. Sono sicuro che sarà una bella partita anche e soprattutto alla fine per il risultato che porteremo a casa. Bocca al lupo, mano. Crepi il lupo.